Ti presenti anche con un sorriso molto invitante che già invita al buon umore, invita alla spensieratezza. Sì, anche se io sono abbastanza malinconico in realtà, questo è in comune con tanti comici come Totò, Petrolini, non è un paragone ovviamente, però sì, anche questo potrebbe essere una maschera, in realtà c'è una grande malinconia.